ciao ragazzi io sono Emanuele bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al video making oggi sono qui per parlarvi di cinque accessori cinque oggetti che utilizzo per girare i miei video e che ritengo siano indispensabili partiamo da questo snodo della Manfrotto è un oggetto che costa un pochino l'ho pagato 35 euro ma vi posso assicurare che è estremamente robusto per cosa lo utilizzo? Beh principalmente lo utilizzo per i miei pannelli a led avvito il pannello qui alla filettatura da un quarto di pollice questo snodo mi permette di inclinare il pannello a led che può sembrare una cosa banale ma vi assicuro che per esempio quando voglio dare una botta alla luce ambiente in una stanza fisso il led ruoto lo snodo così il led spara dritto sul soffitto e sono a posto costa come ho detto 30 35 euro ma vale assolutamente la spesa è indistruttibile qui invece abbiamo un clamp per stativi praticamente lo inseriamo su uno stativo e cosa ci permette di fare? Di tenere tutta una serie di oggetti io lo utilizzo soprattutto per tenere in posizione i pannelli diffusore oppure i pannelli riflettenti e questo piccolo oggetto permette di fare a meno di una persona sul set spesso e volentieri dobbiamo chiedere a qualcuno di tenere in posizione ad esempio appunto un pannello diffusore un pannello riflettente per andare un po' a riempire le ombre bene con questo praticamente questo piccolo oggetto assolve perfettamente il compito la cosa figa è che possiamo anche come potete vedere ruotare il clamp il che è veramente molto comodo questo invece è un piccolo braccio snodabile sono perfetti per essere agganciati ad esempio sulla gabbia che avvolge la telecamera perfetti appunto per reggere ad esempio piccoli pannelli a led microfoni piccoli monitor eccetera eccetera questi sono della handwear se non vado errato ce li ho da tanti anni e sono veramente molto validi le avevo pagati poco ma vi assicuro che non mi è mai caduto niente questi piccoli bracci mi hanno salvato in tante situazioni e li ritengo veramente eccellenti qui invece abbiamo un altro clamp che però si utilizza principalmente sugli stativi vedete la forma e si può agganciare facilmente a uno stativo a un treppiede a un tubo eccetera eccetera ma può essere utilizzato anche su perché no dei tavoli io lo uso spesso e volentieri lo trovo perfetto ma questo per questo scopo per sistemare piccoli pannelli a led come ad esempio l'amaran della aputur in punti dove è difficile arrivare diciamo con altre luci inoltre sono presenti tre filettature a un quarto di pollice e perché no possiamo anche agganciarci il braccio snodabile che vi ho appena fatto vedere e poi qua sopra volendo possiamo anche agganciarci un illuminatore a led qualsiasi altro accessorio diciamo e la presa è veramente salda anche questo è un oggetto che mi torna estremamente utile quando giro dei video e visto che quattro oggetti non andavano bene ne volevo cinque ecco ragazzi i classici clam perché questi si possono trovare in tutti i negozi per il fai da te sono perfetti come detto per tenere su magari dei teli diffusori oppure i pannelli o ancora se utilizzate la carta da forno per ammorbidire la luce dei led potete usare questi o anche per fissare le gelatine alle alle luci eccetera eccetera io questi me li tengo sempre una decina per sicurezza nella mia borsa con l'attrezzatura perché non si sa mai bene ragazzi per cui questi sono oggetti che nel corso degli anni mi sono tornati veramente utili per girare i miei video nel caso voi ne conoscesse degli altri perché no scrivetemi un commento qua sotto e ragazzi io come sempre vi ringrazio della visione delle iscrizioni di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video ciao a tutti